Intere comunità in lutto, il Molise, tra le regioni con più alta mortalità causata dal Covid, un incremento esponenziale dei dati nell'ultimo mese e che ha visto una drammatica incidenza nella popolazione anziana. Proprio su questi allarmanti dati si è aperta la polemica sulle ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente della regione Donato Toma, che ai nostri microfoni ha affermato come tale tasso di mortalità e causato dall'alto numero di anziani nel nostro territorio. Commento che ha causato la reazione indignata del segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla, dichiarazione priva di ogni fondamento il commento del consigliere regionale, dato che la Liguria ha una popolazione più anziana della nostra e lì si muore meno che da noi. Come cittadini, prosegue Facciolla, ci aspettiamo che il presidente ben conosca il tessuto sociale della regione e che ponga in essere misure di prevenzione e protezione adeguate ad ogni fascia d'età dei suoi corregionali. La critica alle affermazioni di Toma poggia le basi anche su un'altra considerazione. Abbiamo la popolazione più anziana della penisola, evidenzia Facciolla. Allora forse andava fatto un piano Covid che tenesse conto di questo dato che proteggesse i nostri anziani, che trovasse misure efficaci di contenimento del virus nelle case di riposo. Il commento di Toma Chiosa Facciolla è una via di mezzo fra il fare spallucce e un atto di accusa, come se l'anzianità possa essere una colpa. Insomma, toni accesi e accuse di approssimazione indirizzate dal consigliere di minoranza al governatore della regione, una polemica che probabilmente si trascinerà anche in consiglio regionale. Come avevamo detto, la politica della programmazione, la politica della progettualità. Valuteremo i progetti e li cofinanzieremo. Non sono interventi a preoggia, sono interventi studiati per il territorio e sulla progettualità.